Nel 2017 il progetto di solidarietà Comunque Sorrisi si occuperà anche dei più piccoli. Da gennaio, nella sede della pubblica assistenza di Coiano, sarà attivato un registro di prenotazioni esclusivamente per il trattamento delle patologie odontoiatriche infantili fino a 12 anni di età. Il servizio si aggiungerà a quello nato nel 2014 dalla volontà di Andy Prato, Antlo Toscana, Associazione Lapira e Pubblica Assistenza all'Avvenire, che ad oggi ha curato il sorriso di circa 300 adulti in condizione di disagio economico. Tra i destinatari ci sono persone senza fissa dimora e utenti della mensa dei poveri. Le situazioni sono valutate dall'Associazione Lapira. L'operazione conta circa 70 volontari tra medici e odontoiatri che gratuitamente da tutta la Toscana hanno offerto il loro apporto per la cura di questi pazienti. Abbiamo circa 100 pazienti nuovi l'anno e quindi in tre anni siamo arrivati a circa 300 pazienti. Abbiamo una media di circa 3 trattamenti ogni paziente e quindi facciamo un numero abbastanza importante, elevato di trattamenti su queste persone. Per il sorriso dei piccoli saranno circa 30 odontoiatri specializzati che garantiranno una turnazione organizzata per accogliere una volta al mese anche la popolazione infantile, curando i piccoli e realizzando trattamenti di base per la cura delle carie dei bambini e delle famiglie più disagiate. Ci occuperemo di bambini, di famiglie in grave disagio che verranno selezionati attraverso sempre il front office della mensa Lapira che ci permetterà di intanto avere un'agenda appuntamenti esclusivamente dedicata a questo tipo di popolazione infantile, a questo tipo di fabbisogno.